Applaudiamo questa ragazza bravissima, brava, non ti vogliono dare il premio Enzo, certo il vice sindaco, il dottor Bruno, Bino scusate E brava, un applauso, via, via, alta questa coppa, su, brava, complimenti, bellissima, eh? Bellissima veramente, puoi dire qualcosa al pubblico? Grazie a tutti, grazie alla giuria, grazie Bisogna menzionare anche un altro ragazzo, Francesco Turco, che è stato bravissimo e valutato positivamente dalla giuria Che per una manciata di voti non è riuscito a salire sul podio Andiamo avanti con la seconda classificata, Clelia Rizzo Brava Il vice sindaco premia la seconda classificata Complimenti, bella coppa E io lo dicevo che ero una beveana, quindi Come? Ho confermato, ti saluto Beh, grazie a tutti Eh, grazie a tutti Grazie alla giuria Questo premio lo dedico Questo premio lo dedico a una persona che non c'è più Spero che Facciamo un bel applauso Ed ora è arrivato il momento della prima classificata Signori e signori, con il brano All It's So Quiet di B.O.L.D. Adriana Salim Complimenti Complimenti, bravo Che bella Bravissima Vieni, vieni al centro Vieni Cosa ci dici? Un applauso Su, su, con queste mani Eeeeeee Via E viva Lizzano Sì, 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 sì Sì